Questo è un air gun e questa è una cosiddetta trivella. L'air gun è uno strumento ad aria compressa, un cannoncino ad aria compressa, che viene utilizzato in mare per le indagini geofisiche, relative solitamente alle prime fasi di esplorazione per l'identificazione di giacimenti di idrocarburi. Quindi gli air gun, facciamo chiarezza una volta per tutte, sono degli strumenti per le indagini geofisiche, geofisiche, cioè no trivelle, non c'entrano nulla con le trivelle. Una trivella invece è uno strumento, per così dire, utilizzato per perforare un pozzo. Per tirare fuori gli idrocarburi che sono intrappolati nelle rocce a grande profondità, 2, 3, 4, 5 chilometri di profondità, si perforano dei pozzi e queste perforazioni hanno un diametro di 10 centimetri. Quindi quando parliamo di trivelle non parliamo di qualcosa tipo, non so, i film hollywoodiani di quelle trivelle mastodontiche, no. Queste perforazioni possono avvenire sia su terra, quindi in un contesto onshore, sia a mare, quindi in un contesto offshore. In mare ci sono quelle piattaforme petrolifere che tutti conosciamo, da dove vengono calate una serie di aste fino al fondale marino. E la trivella ha lo stesso principio meccanico di un trapano. È rotante, scava ruotando. I pozzi vengono solitamente perforati nelle fasi ultime di esplorazione, quindi anche dopo diversi anni dall'utilizzo degli airgun. Poi se questi pozzi esplorativi danno un esito positivo, allora si può passare alla fase di produzione, con la perforazione di tanti altri pozzi. Questi ultimi si chiameranno pozzi di produzione, quindi i pozzi esplorativi hanno una funzione diversa da un pozzo di produzione, per cui è bene fare questa differenza. Infatti gli impatti ambientali di cui si parla sono relativi soprattutto ai pozzi di produzione, non tanto quelli di esplorazione. In una fase di produzione, infatti, per aumentare la produzione stessa, in certi casi vengono immessi nel sottosuolo, attraverso questa cavità del pozzo, delle sostanze chimiche, per rendere il petrolio meno viscoso, quindi più mobile, più facile da tirar su. Il problema di cui si parla poi qual è? È che queste sostanze chimiche potrebbero andare a finire nelle falde acquifere. Questo però quando avviene? Avviene solitamente quando c'è un problema al pozzo, quando il pozzo è fatto male. Idealmente, se un pozzo è fatto bene secondo tutti gli standard, difficilmente si avrà una contaminazione della falda acquifera. Quindi per fare chiarezza, air gun e trivelle sono due cose distinte e separate. Sono due strumentazioni utilizzate per scopi diversi, e in momenti diversi. È un po' come dire fare un attack e un'operazione chirurgica. Sono due cose che hanno funzioni diverse, che vengono svolte in momenti diversi. Bene, in questo esempio, l'attack sta all'air gun come l'operazione chirurgica sta alla perforazione del pozzo. Questo è giusto per darvi un'idea. Avendo fatto ora un minimo di chiarezza sugli aspetti tecnici di questo tema, passiamo al decreto ministeriale pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse lo scorso 30 dicembre 2018. Qui mi limiterò semplicemente a documentare ciò che è riportato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Basta andare sul sito unimig.mise.gov.it tra pagina 25 e pagina 34 ci sono tre conferimenti del permesso di ricerca. Quindi parliamo di ricerca, di esplorazione, non di produzione. Già la prima informazione importante. Quindi parliamo di utilizzo di air gun sicuramente, e eventualmente di alcuni pozzi esplorativi, che solitamente sono uno, due, tre, solitamente non di più. Nel documento si legge, alla società Global Med LLC è accordato per la durata di anni 6 il permesso di ricerca di idrocarburi, liquidi e gassosi. Convenzionalmente denominato FR43GM, ubicato nel Marrionio, zona marina F. FR43GM è la sigla di un blocco, quindi della reale in questione. Stessa cosa per il blocco FR44GM e FR45GM. Questi tre blocchi si trovano offshore, quindi a mare, due a largo di Santa Maria di Leuca, in Puglia, e uno ad est di Caporizzuto, in Calabria. In questo documento si può anche leggere che l'air gun, che ora sappiamo cos'è, è ad oggi considerata la tecnica più efficace per lo studio delle caratteristiche geologiche, non solo ai fini della ricerca di idrocarburi, ma anche a scopi scientifici e di protezione civile. Più in basso si può anche leggere si riscontra l'assenza di una correlazione provata del tipo causa-effetto degli impatti degli air gun sui mammiferi marini. Beh, si può essere d'accordo oppure no, ma penso che sia bene riportare ciò che c'è scritto in un documento ufficiale del genere. Detto ciò, spero di aver fatto chiarezza. Io sono Andrea Moccia, geologo presso l'Istituto Nazionale Francese dell'Energia, e questa è Geologia Pop, una rubrica di divulgazione scientifica, dove cerco di fare del mio meglio per tradurre la complessità delle scienze della Terra, dei fenomeni geologici e degli aspetti d'attualità ad essi legati in maniera pop, cioè in maniera semplice, adatta a tutti. Come avete visto, se spiegati in termini semplici, i concetti principali, anche legati a delle cose tecniche, geologiche, possono essere capiti da tutti. Se questo video è stato di vostro gradimento e interesse, seguite la pagina Geologia Pop e iscrivetevi al canale di Geologia Pop di YouTube. Basta cercare la parola chiave Geologia Pop. Ciao e a presto!